Personalizza il booking dei servizi Per personalizzare la visualizzazione del booking dei servizi clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse e clicca su Modifica Clicca sull'icona stella per modificare lo stile sull'icona Stile dei testi per cambiare carattere e colore dei testi Clicca sull'icona catena per cambiare il colore e l'arrotondamento dei pulsanti Dalle impostazioni avanzate puoi nascondere o mostrare i campi di ricerca Puoi filtrare per uno specifico indirizzo, per struttura, servizi da mostrare o categoria Puoi rendere visibile l'indirizzo, aggiungere un effetto ombra modificare la visualizzazione dell'anteprima, i colori e scegliere una pagina di destinazione prevedendo o che l'utente rimanga nella stessa pagina o che venga reindirizzata ad una pagina specifica selezionabile dal menu a tendina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti